ariete basterà una frase sbagliata per spegnere l'entusiasmo il sentimento e la concentrazione non dai un po troppo potere agli altri toro oggi non hai voglia di fare molto ti piacerebbe di gran lunga rimanere a casa ad uziare invece dovrai andare a lavoro gemelli certo i parenti si sa sono serpenti anche il più velenoso si può combattere con l'antidoto del sorriso cancro tutto è possibile avrai come la sensazione di non fare in tempo a pensare a qualcosa che questo si realizzerà leone se non hai pensieri e preoccupazioni fai di tutto per crearne e magari per affliggere anche chi ti è vicino il malumore si combatte con il sorriso vergine una bella sorpresa lavorativa ti farà venire voglia di far baldoria questa sera goditi la serata bilancia giornata di chiarimenti che sia il partner un amico un parente parlare servirà a stringersi la mano dopo aver chiarito tutto scorpione un guizzo di particolare vivacità potrebbe emergere al lavoro promozione aumento in arrivo sagittario oggi pensa soprattutto a come rilassarti e sciogliere i nervi perché la tentazione di spaccare tutto sbattere la porta e andar via non mancherà capricorno potrebbe arrivare la risposta che aspetti o la promozione a cui aspiri da tempo oggi tutto sarà possibile tu cogli le possibilità acquario la notte porta consiglio e forse hai deciso che l'amore merita più attenzione l'umore ringrazia pesci amante focoso innamorato questa volta caro pesciolino è il partner ad essere cotto a puntino